Musica Alla stazione ferroviaria di Fano con un coltello a serramanico straniero segnalato all'autorità giudiziaria La polizia scopre anche 16 persone in possesso di sostanze stupefacenti Cofcommercio Marche Nord presenta Valore Bellezza La card dell'itinerario ideata per sostenere l'economia locale sarà attiva nei prossimi mesi A Fano ha preso il via Genera Azione tutti i martedì una camminata per promuovere la salute e prevenire diverse patologie Testa alta e pedalare da domani al 23 aprile il tour di Matteo Ricci in bicicletta nel centro Italia Ricci commenta contro l'autonomia differenziata per lanciare un messaggio di pace Concluse le riprese del film dedicato al Carnevale di Fano Il progetto cinematografico con la regia di Andrea Lodovichetti verrà proiettato a settembre durante l'inizio della stagione cinematografica Si è giudicato il sesto posto al campionato italiano di geografia Oltre ad essere stato proclamato vincitore di due gare Quello delle carte mute e ambiente ed energia È il fanese di 9 anni Pietro Giancarlo La profumeria Taussi compie 160 anni Questa sera guarda chi c'è la storia e la lunga tradizione familiare raccontata da Rodolfo e Luciano Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia di Fano TV Il giornalismo marchigiano è in lutto per la morte improvvisa di Andrea Ferretti Stimato direttore di Cronache Picene e Cronache Fermane È deceduto nella notte nella sua abitazione a causa di un malore Avrebbe compiuto 63 anni il prossimo mese Ferretti aveva iniziato la carriera giornalistica come collaboratore del messaggero Per poi approdare ad altre testate Era un decano della Quintana di cui era storico tamburino Ed era un grande appassionato dell'ascoli calcio Seguendo per decenni la squadra bianconera Lascia la moglie Anna Rita e il figlio Valerio Il commissariato di Fano diretto da Stefano Seretti Prosegue l'operazione Alto Impatto ed altri servizi di controllo del territorio Con la partecipazione della Polizia Locale e di Unità Cinofile della Guardia di Finanza Finalizzati a prevenire fenomeni di devianza giovanile In particolare spaccio e consumo di sostanze stupefacenti Vandalismi e reati contro il patrimonio Nei pressi della stazione ferroviaria Uno straniero è stato trovato in possesso di un coltello serramanico Che è poi stato sottoposto a sequestro Mentre il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria Complessivamente sono state controllate 220 persone 49 veicoli e 6 esercizi pubblici Ad uno di questi, situato nel centro storico ed edito a giochi e scommesse È stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 6.600 euro Perché all'interno c'erano due minorenni Inoltre 16 persone sono state segnalate alla prefettura Per essere stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale In totale sono stati sequestrati 35 grammi di droga Ed uno straniero è stato sottoposto alla procedura di espulsione I sequestri di droga sono stati effettuati al Pincio In Piazza Amiani, nei pressi della Rocca Malatestiana Alla stazione ferroviaria e lungo via Prima Strada a Bellocchi E torniamo a parlare del degrado sull'ex ferrovia Fano Urbino Perché grazie alle lettere inviate da Pollegioni dell'Udc di Fano La prefettura ha inviato una PEC ad RFI Per sollecitare la pulizia lungo i binari Sentiamo Corregioni dopo aver richiesto un intervento annuale di pulizia dell'ex ferrovia Qualcosa si muove? Sì, intanto ringrazio il prefetto Emanuele Agrego Che ha risposto con una lettera Si è interessata, come ha fatto lo stesso anche anno scorso A seguito della mia segnalazione E ha scritto all'ente ferrovie Chiedendo gli interventi che devono essere fatti lungo quella tratta Un prefetto molto attento al territorio E quindi questo mi fa un enorme piacere Una tratta che ogni anno ci troviamo a dover sempre intervenire per la pulizia Perché è una linea ferroviaria che costeggia molte abitazioni Che passa in punti anche strategici della città E che rimane indecorosa non solo la tratta in se stesso Ma poi è un indecoroso che va a colpire anche il territorio stesso comunale Dove ci sono le persone, dove ci abitano, eccetera Quindi sono di nuovo tornato in argomento Come faccio ormai da quattro anni E ho chiesto all'ente ferrovie di fare un programma Che sia un programma fisso Quindi interventi da fare ogni anno In modo da non dover tornare in argomento Perché anche se quella tratta ferroviaria è stata dismessa nel 1986 Questo non vuol dire che debba essere lasciata in abbandono È rimasta di proprietà dell'ente ferrovie E l'ente ferrovie è preposto a intervenire e a tenerla come si deve Ora tendiamo appunto una risposta all'intervento da parte di RFI Ma sicuramente sì, credo come è successo nel 2023 Che il prefetto ha convocato addirittura l'ente ferrovie E il comune di Fano proprio in un tavolo Proprio su questo tema Quindi credo che anche quest'anno Comunque l'ente ferrovie perlomeno, lo spero Intervenga e intervenga in maniera seria Perché voglio dire una cosa L'anno scorso sono intervenuti Ma in maniera molto veloce Io quest'anno ho chiesto di prestare un'attenzione particolare alla pulizia Perché se la pulizia viene fatta come si deve Ogni anno costa meno E se si interviene ogni anno Chiaramente il lavoro è minore rispetto a quello lì che è adesso Ho chiesto un'attenzione particolare Soprattutto in via Regolo Verso dove era l'ex stazione ferroviaria Anche perché lì c'è una situazione un po' più particolare Perché è una zona molto più estesa C'è una crescita di arbusti importante Ci sono anche degli alberi ormai secchi Che possono essere pericolosi Perché sono anche nell'argine della strada E inoltre lì c'è una raccolta di acque piovane Che poi va a scaricare nelle condutture il deflusso del comune E ricordo che proprio quella zona Che non era ben pulita Ha creato anche degli allagamenti con le piogge Dopo una riunione estemporanea dei capogruppo Ieri sera è saltato il Consiglio Comunale di Fano Dedicato al PRG e alla questione dell'ex zuccherificio La maggioranza che dovrebbe supportare Fanesi Ha commentato il capogruppo della Lega Gianluca Ilari Ha cancellato il post del giorno prima Nel quale proclamava l'Unione Da tutti insieme per vincere e governare Fano Ci si è dovuti arrendere alla realtà Facendo capire ai cittadini Che il presunto candidato sindaco del centro-sinistra Non solo non è seguito dalla maggioranza Ma nemmeno dal suo stesso partito Che ha di fatto impedito che il PRG tornasse in aula La discussione sull'ex zuccherificio Proseguito Ilari Non è nemmeno partita E già sono volati gli stracci in maggioranza La scelta coraggiosa per la città Ha concluso E' ammettere che non c'è nessuna proposta innovativa Da questa amministrazione Che l'eventuale squadra di governo di Fanesi Sarebbe la stessa di oggi Con gli stessi assessori E che il Partito Democratico Non è disposto a seguirlo Nemmeno durante le battute finali del PRG E ci spostiamo a Calcinelli di Colli al Metauro Dove sono iniziati i lavori di riqualificazione Nel campo da calcio L'intervento consiste nel ripristino Di un tratto di muro attualmente pericolante Nel rifacimento della centrale termica E nel ripristino del manto erboso L'opera è stata finanziata per un totale di 80.000 euro Di cui 50.000 con fondi della regione E i lavori dovrebbero finire per l'inizio della nuova stagione calcistica Inoltre con un altro intervento già finanziato Si provvederà a potenziare l'impianto di alimentazione Del sistema di irrigazione del campo Con la realizzazione di vasche di accumulo alimentate Da acque di recupero Si chiama Valore Bellezza Ed è una card speciale ideata da Confcommercio Marche Nord Per sostenere l'economia del territorio Scopriamo di più nel servizio di Marco Lonigro L'itinerario della bellezza Progetto di promozione e valorizzazione turistica Ideato e curato da Confcommercio Marche Nord Continua a crescere Tante e importanti le novità del 2024 Dagli ingressi di ben 5 nuovi comuni nel circuito Al lancio di una nuova carta Chiamata Valore Bellezza Valore Bellezza Card nasce per poter contrastare Il diffondersi incontrollato Delle online delle grandi catene Che comporta ovviamente una perdita di fatturato Per le nostre imprese E uno spopolamento dei nostri borghi Perché molte imprese chiudono Non avendo possibilità di economicità Un'iniziativa moderna e coinvolgente Per l'economia locale Il nuovo strumento di Confcommercio Marche Nord In collaborazione con la start-up Valore Locale Sarà introdotto nei prossimi mesi E funzionerà come un grande sistema di fedeltà Turisti e residenti potranno fare acquisti sul territorio Ricevendo uno sconto sotto forma di cashback vincolato È legata ad un cashback Quindi un sistema che tutti quanti conosciamo Ma quello che cambia è che è un cashback vincolato Quindi l'utente finale Il cliente ultimo che entra in negozio Che va al ristorante Che va in gelateria Che va ad acquistare un capo di abbigliamento Avrà all'interno della card Un credito aggiuntivo Che può spendere solo all'interno del circuito Di questa valore bellezza card Quindi non si può spendere fuori Non si può andare a spendere online Su altri siti Ma solo all'interno delle aziende Che aderiscono a questo sistema È un modo per riportare l'economia all'interno di un circuito Ed è un modo per poter dare ancora più capacità di acquisto Di spesa all'utente e al cliente finale Che poi è quello che frequenta i nostri negozi I nostri botteghi I nostri ristoranti La card valore bellezza Verrà presentata alle attività commerciali Attraverso un tour articolato in diverse tappe Grande successo per il primo incontro svoltosi a Fano Per quanto riguarda i nostri incontri Abbiamo iniziato con Fano Che ha ricevuto una grande visibilità E grande partecipazione Con molte imprese che hanno fatto domande Su cosa potesse essere questa valore bellezza card Proseguiremo poi con gli incontri ad Urbino Lunedì 22 pomeriggio 1 alle 14.30 per le attività di abbigliamento Negozi, edicole eccetera E alle 16 per l'attività della ristorazione Bar, comunque pubblici esercizi Per poi tornare a Pesaro Alle ore 21 dove faremo questo terzo incontro Gli altri comuni interessati dagli incontri ad oggi Sono Gavicce, Gradara e Fossombrone Ma stiamo allargando sempre più la possibilità Di coinvolgere comuni dell'itinerario della bellezza In quanto la richiesta da parte delle aziende è grande Quindi l'interesse è tanto Noi siamo pronti a da subito Con un materiale informativo e a dare informazioni Non solo negli uffici periferici e sede centrali di Confcommercio Ma attraverso anche i punti IAT e attraverso le Proloco Che diffonderanno in maniera capillare questa possibilità Si può richiedere anche online Ad oggi sul sito Confcommercio Marchenord.it Presto sul sito Terrenare la bellezza.it E poi avremo anche fisicamente i moduli All'interno di ogni nostro ufficio Domani venerdì 19 alle 15 alla Memo di Fano Si terrà un seminario dal titolo Urbanistica sociale del fascismo Utopie e miopie Borgate rurali e case popolarissime Tra Fano e Roma L'incontro è organizzato dall'Ecomuseo Metaurilia In collaborazione con lo storico Marco Labbate E con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti Della provincia di Pesaro e Urbino E dell'Istituto Nazionale di Urbanistica delle Marche Fano unica nelle Marche Ad avere nel suo territorio esperienze di urbanistica rurale Quali Metaurilia ed il villaggio semirurale Costanzo Ciano Confronterà le sue borgate con quelle di Acilia E San Basilio nei soborghi di Roma Il seminario si legge nella nota Colma un vuoto di ricerca storica E apre nuove piste di indagine e nuove sfide Oltre a riunire lo stesso tavolo E mettere a confronto storici architetti e urbanisti A Pesaro invece sempre domani Si terrà il convegno Fisco e Previdenza Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente Organizzato dall'Associazione Nazionale Commercialisti Al Charlie Urban Hotel Si tratta di una giornata di dialogo e condivisione Realizzata con il patrocinio dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con la partecipazione di oltre 200 professionisti Tra commercialisti e consulenti del lavoro Saranno presenti tra gli altri Lucia Albano, sottosegretario di Stato Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze Della Camera dei Deputati Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive Della Camera dei Deputati E Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio Del Senato della Repubblica Invece alle ore 18, sempre del 19 di aprile Nel Salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci al Vallato Si terrà un incontro pubblico su Adriano Olivetti Lo sguardo sempre avanti di un imprenditore visionario L'evento è organizzato dal Circolo Bianchini Dall'Associazione Porte Aperte E dal Lucid Fano Tra i relatori anche Michele Dorigatti Uno dei massimi esperti di Olivetti in Italia A Fano ha preso il Via Genera Azione Un progetto di ASI coordinato dall'AST di Pesaro e Urbino Per promuovere uno stile di vita salutare L'appuntamento è per tutti i martedì Con una camminata aperta alla cittadinanza Genera Azioni è il titolo del progetto organizzato dall'ASI Ente di promozione sportiva E componente del gruppo regionale Del piano regionale della prevenzione Coordinato a livello locale Dal Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino Per promuovere uno stile di vita sano Camminare porta tanti benefici Tra i quali prevenire tante patologie L'appuntamento è tutti i martedì a Fano Con partenza dalla palestra Nuti Per una camminata energica e divertente Di circa un'ora Aperta alla cittadinanza L'attività rientra nelle azioni Del piano regionale della prevenzione L'obiettivo è quello di modificare Le abitudini sedentarie delle persone Attraverso un programma di attività fisica Che può essere mantenuto nel tempo Anche dopo la fine dell'iniziativa L'obiettivo di Generazioni è promuovere la salute E questo progetto si trova all'interno Del piano regionale della prevenzione In un programma che si chiama Comunità attive Perché proprio vuole stimolare Il movimento delle persone Ma non solo il movimento fisico Anche una certa dinamicità comportamentale e mentale Fare in modo che le persone Si prendano cura di se stesse Questo non si può fare chiaramente da soli E la sanità ha cercato e ha trovato Dei giusti e ottimi alleati Quanto è importante camminare E quante malattie previene? Camminare il movimento fa benissimo Ormai ci sono tantissime ricerche Che ci dicono che previene tantissimi tipi di tumore Le malattie cardiovascolari Va a livellare il livello di colesterolo E di pressione nel sangue E poi aiuta anche in quei dolori osso-articolari Che poi sopravvengono con l'età Però la cosa molto importante Che vorrei sottolineare È il beneficio psicologico Camminare appunto insieme Sollecita la serenità Aumenta la resilienza Che è quella capacità psicologica Di saper gestire le situazioni difficili E in un periodo storico come questo Ne abbiamo veramente bisogno Quindi se volete assumere Delle pillole di serenità Venite a generazione Venite a camminare con noi Questa camminata è organizzata dall'ASI Appunto che rappresento È promotore insieme alla SD Gong Yao Che in realtà è la capofila del progetto Ha vinto un bando Grazie a Sport e Salute Quindi possiamo fare una serie di attività gratuitamente Questa attività è aperta a tutti E questa in modo particolare Ovviamente agli adulti La Gong Yao però presenta Una serie di altri corsi Kung Fu Combat per bambini Per giovani e adolescenti Poi anche difesa personale per le donne E ginnastica funzionale per gli adulti Sono tutti gratuiti E quindi ho piacere appunto di promuoverli E invece questa camminata parte Tutti martedì sera Abbiamo cominciato nel mese di marzo E continueremo anche tutto il periodo estivo Fino al mese di ottobre Martedì sera quindi alle 8 Partiamo dalla palestra Nuti Facciamo tappa qui all'arco di Augusto 10 minuti alle 8 e 10 circa E poi proseguiamo Un percorso per il centro Direzione mare E poi ritorno Un percorso di circa 5 chilometri Abbondanti Che facciamo in un'oretta Per iscriversi potete cercarci Quindi cercare Asi Pesaro Urbino Nei social Nel sito internet Asi Pesaro Urbino Oppure telefonare al numero 328-266-2060 E il servizio era di Stefania Schiaroli Testa alta e pedalare Domani venerdì 19 aprile Alle 9.30 Parte il tour in bicicletta Del sindaco di Pesaro E coordinatore dei sindaci DEM Matteo Ricci Da Fano partenza dall'arco d'Augusto E arrivo a Roma Previsto il 23 aprile Attraverseremo il centro Italia Percorrendo la via Flaminia Detto lo faremo per ricucire l'Italia Contro l'autonomia differenziata Che divide il paese E penalizza proprio le regioni centrali In bicicletta Ha spiegato Ricci Perché vogliamo accelerare La transizione ecologica Al tempo stesso vogliamo lanciare Un messaggio di pace Arriveremo a Roma Dove porteremo l'orgoglio Della provincia E della nostra gente Umile ma che sa guardare lontano E a forza per arrivarci Un film è tutto dedicato Al carnevale di Fano Concluse ieri le riprese Del progetto cinematografico Di Andrea Lodovichetti Insieme alla sua squadra La pellicola verrà poi proiettata In anteprima nel mese di settembre Vediamo Vieni Dopo il successo del docufilm Dedicato alla marineria Con la pellicola intitolata Pescamare Che ha fatto conoscere in tutto il mondo La vita marinara di Fano Il regista fanese Andrea Lodovichetti È a lavoro Insieme alla sua squadra Dallo scorso mese di settembre Alla realizzazione di un'altra opera Il film è dedicato All'evento d'eccellenza della città Il carnevale Le registrazioni eseguite Soprattutto durante l'evento di sfilate Del 28 gennaio 4 e 11 febbraio di quest'anno Si sono poi spostate In altri luoghi simbolo E particolari della città Tra i diversi set di questo film C'è il cosiddetto cimitero dei carri Ovvero dove i pupi Delle passate edizioni Vengono posti Per poi essere venduti In un secondo momento E poi ai capannoni Al teatro Nella zona mare E numerose località Dove i due protagonisti Ovvero il voulon La maschera ufficiale del carnevale Interpretato da Simone Di Otalevi E un bambino di 10 anni Edoardo Davide Pignataro Partiranno insieme Per un viaggio tutto particolare E dove incontreranno Altrettanti personaggi Questo è un set ricostruito Perché il nostro film Avrà una parte reale Live dal vivo Che abbiamo giudato Durante le sfilate Durante il martedì grasso E durante il giovedì grasso Avremo un'altra parte del film Che sarà costituita Da materiale di repertorio Incredibile Che i nostri concittadini Ci hanno mandato E ci stanno mandando E poi la parte Diciamo Più divertente A livello creativo Dove abbiamo ricostruito A nostra totale fantasia Diciamo Le parti di finzione Quindi siamo Io sono qui Con Nicola Nicoletti E Luca Caprara Che sono i miei coautori Stiamo ultimando Le ultime cose Di uno Dei set ricostruiti Il reparto scenografia Vi garantisco Ha fatto un lavoro eccellente Tanta adrenalina Tanta passione Tanta energia Il progetto cinematografico Firmato Lo Beca Film Realizzato Con fondi regionali E ministeriali Voluto dal comune di Fano Con la collaborazione Del lente carnevalesca Ripercorrerà tutta la storia Della manifestazione Dal 1347 ad oggi Siamo più di 25 persone Tra l'altro tutti marchigiani Diciamo la metà dei quali Sono fanesi L'altra metà Comunque marchigiani Si è creata Una sinergia incredibile E anche con gli attori Anche con i carristi Tutti siamo uniti E strutturati A remare Nella stessa varca E nella stessa direzione È stato bellissimo Quando insieme agli attori Noi autori A copione fatto Ci siamo confrontati Cambiando situazioni Cambiando battute Adattandole Rispetto anche Le esigenze Dei carristi Quindi Una grandissima sinergia Che permea Tutta la struttura Narrativa del film E io da regista Ovviamente non posso Che essere fiero Di questa grande collaborazione E di questa energia Che si sta sprigionando La deprima del film È prevista Per il mese di settembre In concomitanza Con l'inizio Della stagione cinematografica 2024-2025 E cambiamo argomento Per parlare di geografia Perché il piccolo Pietro Giancarli Di soli nove anni Si è classificato Al sesto posto Al campionato italiano Di geografia Oltre ad aggiudicarsi La vittoria In due gare Su dieci Rispondendo In tempi rapidi A una serie di quesiti Sulle carte mute E sui temi Dell'ambiente E dell'energia Lo ha intervistato Cristiana Guerra È stato il fanese Pietro Giancarli Di soli nove anni A classificarsi Al sesto posto Del campionato italiano Di geografia E ad aggiudicarsi La vittoria Di due gare su dieci Quella di carte mute Ambiente ed energia Che si svolgono Annualmente A Carrara In Toscana Ritirando i premi Consegnati Dal comandante Dell'istituto geografico Militare Panizzi E dal direttore Dei giochi Professor Canesi Giunto alla sua Ottava edizione Pietro insieme Al suo papà Ha deciso di partecipare Spinto dalla sua Curiosità geografica Avuta sin da piccolissimo Grazie alla passione Trasmessa per lo studio Dalla sua famiglia Come avete fatto A venire a conoscenza Di questa opportunità Mia madre Guardando Un programma televisivo Gheon Gheon Mi sembra Ha visto questo Professore di Carrara Questo professore Di una scuola superiore Di Carrara Che da anni ormai Noi non lo sapevamo Insomma Organizza questi Questi concorsi Che anzi sono giunti Credo all'ottava edizione Professor Canesi E sostanzialmente Ce l'ha segnalato Lei conoscendo La passione di Pietro Per questa Per questa disciplina Insomma Aveva capito Che fosse aperto A tutti I studenti Delle scuole Anche elementari In realtà Si parte Dalle scuole Medie In su Per cui Pietro Ha dovuto partecipare Come agli open Cioè ai campionati singoli Per così dire Quindi con gli adulti E quanti erano i partecipanti? Erano una cinquantina Per quanto riguarda Diciamo La parte degli adulti Ecco Questi open Mentre per quanto riguarda I campionati delle scuole C'erano molte scuole Soprattutto Toscane ovviamente Ma un po' di tutta Italia I vincitori Sono stati anche Abruzzesi Campani Molti trentini Quali sono i giochi In cui Pietro Si è giudicato I titoli più alti Del podio? Pietro ha vinto Questi concorsi Erano suddivisi In dieci specialità Pietro ha vinto Carte mute Cioè le carte geografiche Senza l'indicazione Del paese Comunque Del territorio A cui si riferiscono Ambiente ed energia Quindi diciamo Quella parte più legata Anche alla situazione ambientale Pietro come è nata La passione per la geografia? Allora tra i miei giocattoli C'è sempre stato un mappamondo Babbo è uno storico A cui piace molto la geografia Anche a me a scuola Piace molto la storia E queste due materie Sono spesso correlate tra loro Tu conosci anche le bandiere Di tutti i paesi ad esempio? Sì Bandiera del Nepal? Allora la descrivo Due triangoli equilateri Uno sopra l'altro Tutto il bordo è blu Quello che rimane è rosso Con una stella con 36 punte Si ricordo bene? E un'altra con meno punte Perché alcune sono occupate da una luna E invece di questa giornata Che cosa ti è piaciuto di più? Che cosa ti ricordi? C'erano varie persone importanti Che prima nella premiazione Stavano Facevano delle presentazioni Sulla geografia Ti hanno regalato anche una maglietta Che cosa c'è scritto nella maglietta? Save the world Study geography Per me questo vuol dire che Studiare la geografia Vuol dire anche studiare un territorio Un popolo Le abitudini di questo popolo E se tutti i popoli Si conoscessero molto bene Probabilmente ci sarebbe rispetto Tra loro e pace Quanto eri emozionato quel giorno A questi campionati italiani? Ah tantissimo Come lo sono in questo preciso momento Una curiosità Qual è l'isola più sperduta? Tristan Macunia Nel Pacifico Fa parte dell'impero britannico Adesso è il Regno Unito Però è comunque una delle piccolissime colonie che restano Che rientrano nella colonia di Sant'Elna Cosa vuoi fare da grande? Divulgatore scientifico di ogni tipo di scienza Considero scienza anche la geografia E bravo Pietro Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E a seguire una nuova puntata di Guarda chi c'è Ospiti di Maria Elena Delbianco Rodolfo e Luciana Taussi Che racconteranno le tappe di un successo Iniziato con la barberia Per poi continuare con i bagni pubblici E docce calde La parrucchieria Ed infine la profumeria Dalla lunga tradizione familiare Seguirà poi uno speciale Dedicato al progetto Dalla vigna alla tavola Un viaggio alla scoperta Dei sapori autentici Della tradizione marchigiana Sulle orme del maestro Gioacchino Rossini Chiudiamo qui questa edizione Del telegiornale Grazie per essere stati con noi Vi auguro un buon proseguimento di serata Sul nostro canale Arrivederci Grazie per aver guardato il video